Nuovo appuntamento con Vaschettando, una puntata importante e speciale sia per gli ospiti sia per la location che è nuova e siamo infatti qui a Verbagna Fondotoce ai Serramenti Bianconi e saluto subito uno dei padroni di casa perché ci ha chiamato lui e ne siamo ben contenti Fabio Marzorati, ciao Fabio Buonasera a tutti In duplice veste di co-padrone di casa e anche di allenatore del settore giovanile di Domo Diciamo che in questa occasione rappresento Domo d'Ossola dove ho allenato quest'anno Ovviamente ben voletieri vi ospitiamo alla nostra sede di Gravellona di Verbagna Bravo di Verbagna perché l'ho chiesto prima Ma è più vicino a Gravellona ci riconoscono più come Gravellona Comunque Fondotoce Siamo in territorio di confio oggi parleremo di Serramenti perché di basket è meglio che non parliamo Fabio No ne parliamo magari alla fine ma giusto per... Cos'è per sport? Solo per sport Insieme a Fabio c'è Bruno Varia che è tornato finalmente a trovarci L'anno scorso era presidente ed era onnipresente Quest'anno hai un po' bigiato Quest'anno è la prima volta È passato quasi un anno dalla mia partecipazione Però c'è una cosa che posso fare Fare le mie congratulazioni a quell'anello splendente che vedo là Una novità che era nell'aria ma non sapevo proprio definitivamente Sono contento per te che sei venuto dalla nostra parte degli sposati Grazie Facciamo vedere l'anello così almeno mi merito Un applauso Faccio l'applauso da solo Applauso Grazie Grazie Bruno Questa me la leggo il dito in tutti i sensi Insieme a Bruno e a Fabio c'è Alessandro Burlini Ciao Alessandro Ciao buonasera a tutti E Stefano Maishadri Ciao Stefano Ciao buonasera a tutti Allora il microfono lo tieni tu perché cominciamo da te Molto bene Sabato è successo quello che non doveva succedere Paffoni sconfitta Paffoni che saluta i playoff Un epilogo amarissimo per il risultato Un po' più dolce per la prestazione dopo quella indegna di gara 3 Poi ne parliamo con Alessandro e con te Io avrei detto amarissimo per com'è andata gara 3 Perché dopo gara 3 veramente non era la maniera giusta Per finire una stagione Infatti poi sabato abbiamo dato tutto quello che avevamo Anche perché volevamo rifarci dalla brutta prestazione davanti ai 50 tifosi che ci seguono sempre Quindi era giusto anche nei loro confronti avere un certo tipo di reazione E credo che sabato sia venuta fuori forse la più bella partita degli ultimi mesi Con grande cuore, grande carattere Non siamo riusciti a vincere un terzo quarto Che non capitava spesso E faceva ben sperare Poi dall'altra parte c'è un signore che si chiama Alvin Yang E ti risolve le partite Era vinta lui Poi sentiremo anche le parole di Zanchi e le commenteremo anche Alessandro Penso che la partita di sabato aumenti il rammarico Perché se la Pafone avesse giocato la metà delle partite con cui l'atteggiamento è in trasferta Non sarebbe finita quarta in stagione regolare E forse avrebbe avuto un avversario più malleabile a primo turno Per lo chiedo anche a Fabio e a Bruno Beh sicuramente Anche se visto come sono andati i turni playoff A parte Chieti che probabilmente ha finito la stagione con la stagione regolare Le altre sono tutte state serie equilibrate E una è ancora in corso Ed è addirittura la quinta Per cui diciamo che probabilmente solo arrivando secondi Si aveva la certezza Tra virgolette di passare il primo turno Stefano ha detto la cosa Secondo me giustissima A parte gara 3 che obiettivamente non l'abbiamo giocata Le altre tre partite sono state decise tutte negli ultimissimi secondi E credo che la differenza tra avere una guardia di 37 anni E un playmaker di 32 E anche Masoni E avere un ragazzo del 90 e uno del 93 a gestire i palloni Si sia vista in tutti i quarti di tutte e tre le partite Scusami Mi hai dato un assist prima di coinvolgere Fabio Bruno Perché è proprio di oggi la notizia che Mike James ha vinto il premio come MVP Della Deco Silver 2013-2014 Quindi penso una soddisfazione per la società E per il ragazzo Insomma ha fatto una stagione eccellente E' vero che forse il playoff non è stato il James della fase iniziale della stagione Però credo che nell'arco di una stagione ci possa anche essere un calo E' arrivato purtroppo nel momento decisivo Sì, sicuramente nei playoff si gioca in una maniera diversa Rispetto alla stagione regolare Secondo me già nella seconda parte della stagione Un po' che gli avversari lo conoscevano meglio Un po' magari anche la stanchezza Perché comunque giocare sempre 37-38 minuti non è facile Dicevo già nella seconda fase della stagione si è visto un calo Io dico che se avesse giocato tutte le partite come l'ultima Soprattutto nella parte di difesa Probabilmente avrebbe fatto meglio lui Avremmo fatto meglio tutti Fabio, su questo epilogo della Paffoni Ma la Paffoni ha fatto un grande campionato E non va dimenticato A prescindere dagli ultimi risultati che l'hanno estromessa dai playoff E sono oramai diversi anni che ci abitua A lottare sempre nelle prime posizioni Questo non va dimenticato È chiaro che poi arrivati a questo livello Ogni partita vive anche su episodi Gli episodi lo fanno anche i giocatori più esperti Quello che ha detto Ale è sicuramente vero Nei momenti decisivi Magari dopo aver latitato in certi periodi dell'anno Gente come Young Fa effettivamente la differenza Ed è l'esperienza che ti porti in casa Nell'estate precedente Poi l'annata deve avere anche un pizzico di fortuna Insomma ci sono tantissimi fattori In questo caso Casalpia ha avuto Non fortuna ma insomma quando ha vinto qua Dopo un supplementare Quella poteva essere un 2-0 Che ci portava in questo momento per esempio alla quinta In casa nostra Quindi onore alla Fulgor Perché comunque ricordiamoci Ha fatto un grande campionato Bruno Io vorrei fare un commento leggermente diverso Rispetto a quello dei miei colleghi In questo senso L'anno scorso Negli anni scorsi Ho seguito La Paffoni Al Palabattisti E non sono mai uscito soddisfatto Se devo dire la verità Dallo stadio Ho sempre visto delle partite Leggermente noiose Quest'anno Ho avuto occasione di seguire ancora la squadra E ho visto anche due delle partite dei playoff E Sono uscito Molto molto soddisfatto Le partite che sono riuscito a seguire E a vedere Le ho viste Disputate da una squadra Molto ben affiatata Che ha Giocato al meglio Passi falsi Li ha fatti E purtroppo uno È costato È costato l'esclusione Dal playoff Ma le due partite Giocate al meglio Sono state veramente Delle belle partite Con una squadra Che in campo Ha Ha fatto divertire Il suo pubblico Questo è un mio parere Da non tifoso Primo tifoso Della Paffoni Però Secondo me C'è da dare merito A questa squadra Che ha dato Molte soddisfazioni Ai propri tifosi Bicchiere secondo te Mezzo pieno Mezzo vuoto Tre quarti pieno Tre quarti vuoto Io lo vedo mezzo pieno Lo voglio vedere positivo Nella speranza Che l'anno prossimo Le soddisfazioni aumentino Quindi Fabio E poi chiedo anche Alessandro e Stefano Come hai detto prima Il mezzo pieno Secondo me È quasi riduttivo Cioè Lottare Per le prime posizioni A questo livello Non è una cosa Da poco Non dobbiamo Dimenticarcelo Dopodiché È chiaro Parlare Si fa in fretta In campo Io ho visto dei ragazzi E li conosco Che hanno dato Veramente Tutto quello Che avevano Poi Ci sta Il basket È bello Anche per questo I risultati Arrivano Per una somma Di fattori Non solamente Per la forza Dei singoli Però devo dire Che sicuramente È mezzo pieno Ale e poi Stefano Poi parliamo anche Magari dell'avventura Ormai finita Di Gian Paolo Di Lorenzo Questi tre anni Sicuramente È mezzo pieno E forse È anche qualcosa di più Comunque abbiamo fatto I playoff in Lega 2 Silver Che non è comunque Una cosa da tutti i giorni Il palazzetto è tornato Le presenze sono aumentate In maniera Importante E come ha detto Giustamente Bruno In casa Comunque quest'anno Abbiamo sempre assistito A partite Spettacolari E emozionanti Sicuramente È mezzo pieno Stefano A proposito anche Del pubblico Di Cedi 50 giovedì Sabato È sembrato Di tornare indietro Di 6-7 anni Sì Sì Cioè io Mi ricordo Quando magari Con Forlì Sono venuto qua A giocare 5-6 anni fa Ed è stato Un bel colpo Sia d'orecchio Che d'occhio Comunque 200 persone Farsi 300 km Mentre sabato sera Non è mai facile Quindi È stato È stato bello Io Comunque vedo il bicchiere Abbondantemente Mezzo pieno Nonostante Personalmente Vedo sempre Quelle Due o tre lacune Che ci sono sempre Mancate In trasferta Che magari Ci avrebbero fatto Due o tre Quattro punticini In più Molto Facilmente Molto facilmente Vi chiedo Ti chiedo Chiedo Alessandro E poi anche Fabio e Bruno Comuncia tu Stefano Insomma Sabato si è chiusa La parentesi Triennale Di Gianpaolo Di Lorenzo Sulla panchia Dalla Paffone No Adesso ci sarà L'annuncio ufficiale Immagino Presto Però insomma Credo che sia abbastanza Chiaro Sia dalle parole Di Gianpaolo Che su Facebook Ha di fatto Dato il suo addio Stefano Hai vissuto questi tre anni Io voglio dire Non solo Perché l'hai vissuti Anche due prima Vi dico una sola cosa Io quando è arrivato Gianpaolo Di Lorenzo Non è che fossi molto contento Perché ricordavo Perfettamente Quello che era successo Un paio di anni prima Solo gli stupidi Non cambiano idea Sulle persone Io ho avuto modo Di conoscere Gianpaolo In questi tre anni Poi si può discutere Dal punto di vista tecnico Se siano stati centrati Gli obiettivi Se si poteva fare di più Se si poteva vincere Se si poteva andare più avanti Quest'anno nei play-off Se si poteva raggiungere L'anno scorso Se il primo anno Con Ferentino Si poteva andare più avanti Però La persona Gianpaolo Di Lorenzo È una persona A mio modo di vedere Meravigliosa Niente da dire Hai detto tutto te Nel senso Io ho cinque anni Che Per mia fortuna Mi ha allenato Mi ha dato tanto Mi ha fatto crescere Quindi Io sono solo che grato Sono stati cinque anni Ti chiedo a questo Allora Poi lo chiedo anche a loro Come hai vissuto Insomma Possiamo dirlo Non è un mistero Che ci sia stato Ci siamo stati Negli ultimi mesi Dei momenti difficili Anche all'interno Dello spogliatoio Lo ha detto anche Andrea E chissà che quello Non gli sia costato Qualcosina Un mese e mezzo fa Pubblicamente Della tensione Che c'era Tra una parte della squadra E Gianpaolo Chiedo a te Che conosci Gianpaolo da cinque anni Ci hai lavorato insieme Come tu personalmente Hai vissuto questa Piccola o grande spaccatura Che comunque c'è stata Beh Al fine Credo che Un po' di smarrimento Da parte di tutti C'è stato Nel senso che Le idee non erano Sullo stesso livello Magari chi pensava Più A se stesso Invece che Al bene del gruppo Quindi Sicuramente questo Poi alla fine Ha inciso Su Su alcuni fattori Però Credo che Dillo Sia andato avanti Con le sue idee Sia andato avanti Sempre contro tutto E tutti E il suo lavoro L'ha sempre fatto Con il massimo Del suo impegno Alessandro E poi Fabio Bruno Sono d'accordo Con Stefano Credo che sia Abbia dimostrato Innanzitutto Di essere un'ottima persona E anche come allenatore Il primo anno La squadra Era una squadra Spettacolare Il secondo anno Ha partito Con una squadra Che doveva fare Un certo tipo di gioco Che è quello che lui Preferisce Il gioco Votato all'attacco Diciamolo chiaramente Ha dovuto inventarsi Cambiare radicalmente Modo di giocare In impostare la squadra Pensare a una squadra Che costruisse una difesa Solida Perché obiettivamente In attacco Faceva una fatica Pazzesca E alla fine Il risultato L'ha raggiunto Anche l'anno scorso Quest'anno abbiamo cambiato Squadra quattro volte Anche quest'anno Prima Gurini Poi è andato via Borda È arrivato Banti Non è facile Non è facile per i giocatori Ma non è facile Neanche per l'allenatore Quindi Io sono d'accordo Con Gianpaolo Quando dice che Gli obiettivi Sono sempre stati centrati Poi magari si poteva far meglio Per carità Questo Separazione comunque inevitabile Penso che sia Non lo so Sinceramente non lo so Naso Il vantaggio di occuparsi Delle giovanili In questo caso Naso che cresce Fabio? Io davvero non lo so Però posso solo dire Due parole su Su Di Lorenzo In generale È una persona Che non è mai Sopra le righe Quindi secondo me È un esempio Per come Si pone nei confronti Dei ragazzi Secondo me È su come Dirige la squadra Sia negli allenamenti Che durante le partite Io da allenatore Non posso fare altro Che cercare di Rubargli qualche cosa E quando vado a vedere Gli allenamenti Servono Tantissimi spunti Di quello che lui fa Con le prime squadre Anche per buttarli Nelle giovanili E come persona Penso che sia Neanche da discutere Perché si è sempre Dimostrato Mai polemico Mai Ha risposto anche In toni molto pacati A provocazioni Estremamente pesanti Per cui È un esempio Da questo punto di vista Che dovrebbe Essere un po' Preso Ad esempio Da molti Bruno Ma io commenti Su Di Lorenzo Come posso Darli Posso soltanto Commentare i risultati Che in questi tre anni La Paffone È riuscita a raggiungere È sempre stata Nella parte alta Della classifica Ed è riuscito a guidare Non è dovuto questo Spesso si pensa Che sia dovuto questo Assolutamente Le squadre Sono tutte lì Per partecipare Ad una competizione Ad arrivare Il più in alto possibile Arrivarci Un altro discorso Partire Con quell'obiettivo È una cosa Ma arrivarci E per tre anni di seguito Essere sempre Nella parte alta È un risultato Che sicuramente Può considerarsi Come obiettivo raggiunto Poi Se l'obiettivo È quello Di fare di più Ma c'è sempre Solo una O due Al massimo Squadre Che riescono A passare Di categoria Tutti Ambiscono A questa cosa Ma solo pochi Possono sperarlo Veramente Pedroni rimane Adomo? Questa è una domanda A cui è più difficile Rispondere Perché non abbiamo Ancora parlato Del futuro Della squadra La composizione Te lo dicevo prima Sabato e domenica Che il presidente Attuale Michele Marinello Ha detto che Ci sarà comunque Continuità Rispetto allo scorso anno Che era in dubbio La continuazione O meno del progetto Sì L'obiettivo Della società È quello Di riuscire A continuare E di rimanere Sempre in DNC Per continuare Questa striscia Di cinque anni E farne un sesto È ancora presto Dare Definitivamente Diciamo Quale sarà Il progetto Dire Quale sarà Il progetto Per il 2015 La stagione prossima La stagione prossima 14-15 Mi unisco A quello che ha detto lui Prima Io mi occupo Delle giovanili Quest'anno E quindi Facciamo una cosa Chiediamo a Massimo Se dovesse andare via Pedroni Chiediamo Al signor Angelo Qui del Bianconi Di liberare un po' di ore A Marzorati Facciamo fare All'enaccio No 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 Non ho mica detto Scherzo Con questo non voglio dire Che Pedroni Se ne andrà O rimarrà Purtroppo Non occupandomi Direttamente della cosa Te ne lavi le mani Me ne lavo le mani Ok abbiamo capito Te ne lavo le mani Che brutto modo Per me Andiamo a sentire Le parole di Zanchi Scheper Poi guardiamo un po' Anche al futuro Però voglio anche Commentare con Burlini Le parole di Zanchi Esce in gara 4 La Paffoni Sconfitta sul campo Di Casal Busterlengo 74-72 Finisce così Una stagione lunga Travagliata Fatta di tanti alti E di tanti bassi Nel primo quarto La partenza Della Paffoni È quella di chi vuole Dimostrare di non essere Quella di gara 3 Buon atteggiamento difensivo E l'aggressione al ferro Fanno partire bene La Fulgor Masciadri e Gurini Spingono Omenia Coadiuvati da James Shepard Anche sul più 8 Ma è solito Young firma Il solito Buzzerbieder Del 19-20 In un clima Perfettamente formato Playoff Casal P cerca Di prendere il largo Con le giocate In campo aperto Di Young E le conclusioni In avvicinamento Di Chiumenti Il giocatore In maglia numero 7 E lettare sotto le planche Firmando nei primi 20 minuti 18 punti Omenia però Dimostra di esserci A testa e non sbraga 11 punti a testa Per James Shepard E si va a riposo lungo Sul 45-40 Assigeco Di solito Bestia nera Della Paffoni Il terzo quarto Dice bene invece A Omenia Che dopo 3 minuti Di mezzo al gap E sulle meno 2 Quando la partita Impatta sul 47 pari A metà Del quarto Diventa un continuo Cambio di In testa Alla gara L'incertezza domina Ma Omenia Un farione in più Che con le sue giocate Di esperienza Tiene i rosso-verdi a contatto Il quarto si chiude Sul 54-56 Fulgor E un quarto-quarto Che si preannuncia Non per i deboli di cuore Gli ultimi 10 minuti Sono semplicemente Infocati Con nessuna Delle due squadre Che riesce A siglare Il gap decisivo Omenia A 5 minuti Di Giacomo Gurini Con tutta la squadra E con il loro coach Per la grande partita E il risultato Che hanno ottenuto Di là di questa partita Dove è stata persa La serie Quali sono stati I fattori Di sconfitta La seconda partita In casa Dove abbiamo registrato La sconfitta Diciamo È stato il punto di svolta Anche se avevamo Due partite fuori Per recuperare Stasera Ci abbiamo provato Ma ci è andata male Coach Una grande serie Finita con una partita Al Cardiopalma Dove avete vinto Questa partita Abbiamo vinto Dal primo minuto Della prima partita Facendo capire Che non eravamo Le vittime sacrificali Come tanti ci davano Di fronte a Domenia Che era la grande favorita Per qualità tecnica E per esperienza E che c'eravamo Nella serie E ad ogni minuto Siamo cresciuti Ritornando a Domenia Nonostante la sconfitta Di un punto E vincendola Non solo Esplomentari Ma ben prima Perché abbiamo fatto Degli errori Di inesperienza Giocando una partita Perfetta giovedì E rimanendo in partita Oggi Nonostante fosse difficile Perché sapevamo La reazione di Domenia Nonostante i ragazzi Giovani che avevamo In campo E nonostante Abbiamo giocato Una partita Contratta e nervosa Credo che abbiamo Meritato di passarla Per come abbiamo Giocato nell'arco Delle quattro partite Volevo approfittare Per salutare Gli amici di Domenia Ho lasciato il cuore A Domenia Mi è dispiaciuto tanto Come è finita Non ho mai capito Perché è finita Così velocemente Credevo Mi sentivo parte Di un progetto E invece Purtroppo Mi sono ritrovato A casa per un anno Nonostante ciò Fa parte dello sport Fa parte del mio lavoro Nonostante ciò Serbo grandi Ricordi E grandi amicizie Quindi in bocca al lupo Anche A tutta la città di Domenia Abbiamo sentito Le interviste Di Zanchi E di Shepard Io farei commentare Alessandro Burlini Perché l'ha vissuta Lui la stagione di Zanchi L'ha vissuta anche Fabio Magari Io sono sincero A me non sono piaciute Le parole di Zanchi In questo senso Nel senso che A distanza di cinque anni Insomma i sassolini Magari li si tolgono Subito A distanza di cinque anni Dopo che hai vinto Io riconosco in Andrea Una grande eleganza Insomma L'ho sempre stimato Siccome sono stati Un pochettino Inopportune E anche il discorso Dei giovani di Casapusterlengo Sabato Casapusterlengo I giovani di Casapusterlengo Non hanno giocato Perché Quarizia Ha fatto N.E Rossato Ha fatto un minuto Donzelli Ha fatto N.E La partita L'ha vinta Alvin Yang Che di anni Ne ha 39 E l'ha vinta Masoni Come diceva Burlini Che di anni Ne ha 34 Alessandro Ma sui giovani Di Casapusterlengo Potremmo parlare per ora Sono dati di fatto Statistiche alla mano È chiaro che loro Sono una delle società Che investe Più di tutti Nel settore giovanile Mi sembra che in questo momento Abbiano 16 giocatori 18 nazionali In foresteria Che vivono A Casapusterlengo Per giocare a pallacanestro È chiaro che Probabilmente Si aspettano qualcosa di più Credo che il minuto Di 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 Rossato Queste cose qua Sulle dichiarazioni Di Zanchi Non so Sinceramente Anche a me Mi hanno stupito un pochettino Perché Di tempo ne è passato tanto E Voglio dire Se non ricordo male La stagione che ha fatto completa Non abbiamo neanche fatto i playoff Con una squadra Molto esperta Si sono persi due derby di 25 E forte Quindi Non so Poi voglio dire È un allenatore esperto Quindi sa benissimo Che non è che È matematico Venire riconfermati L'anno successivo Non so Non me la spiego neanch'io Sinceramente Fabio No Francamente Dare un giudizio Risulta Complicato Certo Suona Suona abbastanza male Che questo appunto Sia arrivato Con così tanto ritardo E magari dopo aver vinto Vinto la partita Però Zanchi È una persona Probabilmente Si è lasciato un po' Trascinare Da quello che Anche l'emotività del momento È un bravissimo allenatore In quell'anno lì Si è partiti male Perché mi ricordo Col grandissimo entusiasmo Le prime quattro sconfitte Hanno scombussolato Tutto il piano successivo E per un sofio Non si è entrati nei playoff Che quell'anno Era solo a quattro squadre Quindi c'è stata Una somma di fattori Abbastanza Che difficilmente Si ripeterebbero Perché sono stati Veramente una somma Di coincidenze Quell'anno lì Andò male In quel senso Anche se l'annata Non fu anche Quell'anno da buttare Se si finì quinti Dove le prime quattro Andavano in playoff Quinti per differenza Canestri A pari punti Vittorio Treviglio A Trento All'ultimo 82-83 Con due falli clamorosi Non fischiati Sull'ultima azione di Trento Una memoria storica Ricorderò sempre Quell'azione su Forrai Prima Bruno Prima Bruno Le presenze a Palabattisti Siano praticamente raddoppiate Siano quasi più che raddoppiati Gli abbonamenti Sabato c'erano più di 200 tifosi In trasferta a Casal Pusterlengo Da qui si può e deve ripartire No Alessandro? Sicuramente quest'anno A livello di Chiamiamolo Marketing Tra virgolette Ma più rivolto al settore giovanile A come legare il settore giovanile Alla prima squadra C'è stato un salto di qualità Non indifferente L'abbonamento agevolato Alcune iniziative Come quella Di poco tempo fa Di disegno alla tua fulgor Con i ragazzi premiati A bordo campo Insieme Ai giocatori della prima squadra Hanno Indubbiamente l'arrivo degli americani Che comunque Alzano il livello atletico E di spettacolo delle partite Sono tutti fattori Che hanno contribuito A riportare O comunque a portare Ancora più ragazzini Al palazzetto Sicuramente bisogna partire da lì Il lavoro nelle scuole Ha portato tanti altri bambini Al mini basket Bisogna ripartire da lì Per non disperdere il lavoro Che è stato fatto In questo anno Anno e mezzo E proseguire A sviluppare il settore giovanile A proposito del settore giovanile Come sta Domo? Presa e Fabio? Ma noi stiamo raccogliendo Quello che abbiamo seminato In questi ultimi tempi Soprattutto l'anno scorso E quest'anno A livello giovanile Siamo Diciamo Siamo un po' Come numeri Un po' Bassi Ma abbiamo raccolto Molto molto invece Nel settore mini basket Che sarà il nostro futuro Abbiamo anche noi Aumentato i numeri Abbiamo portato Tanti bambini Al palazzetto Cosa che Come è successo a Omenia Siamo riusciti A mantenere Anche nei momenti Più bui Di questa stagione Che ci ha sempre portati Poi Dobbiamo dirlo Ai playoff Siamo sempre riusciti Ad avere Il nostro palazzetto Pieno Per quanto Può Diciamo Contenere È sempre stato Molto frequentato Dai Normali tifosi Ma soprattutto Dai bambini Dai giovani Che hanno seguito La squadra E l'hanno incitata Lavoreremo ancora Io e Fabio Soprattutto Stiamo lavorando Molto su Questo aspetto Sull'aspetto Di giovanili Abbiamo diciamo Cominciato Alcune piccole attività Che speriamo Diano i frutti Nella prossima stagione Fabio Quali attività? Ma no A livello di Attività Per l'estero giovanile Si tratta per esempio Di organizzare O partecipare A tornei Che ci portino A confrontarci Con realtà Che non sono poi Sempre le stesse Domodossola Non è una situazione Logisticamente semplice E quindi Di mettere il naso fuori Da proprio articello Aiuta sicuramente I ragazzi Anche a confrontarsi A crescere A capire che Pur divertendosi C'è da lavorare Perché altrimenti Ogni volta che si esce Da quello che sono I confini tradizionali Si vanno a far brutte figure O far comunque fatica A livello tecnico E tattico Chiaramente Dal punto di vista fisico Invece Domodossola gode Di qualche cosa Nel DNA Di particolarmente Positivo Perché ogni tanto Capitano comunque Dei fisici Anche nel settore Giovanile Che magari Su Verbagno O Menia Si vedono più raramente E su questo Vale la pena Magari Lavorare Più attentamente Cercare di perdere Meno ragazzi Possibili Per creare dei gruppi In maniera che Chi anche avesse Dei numeri O delle qualità Non debba per forza Migrare Per poter giocare Ad un certo livello L'obiettivo Poi quello lì Alzare il livello Generale Per poter Trattenere Anche i prospetti Migliori Ma sabato e domenica Non giochi Quindi cosa c'hai da fare Vediamo Cos'è che Aspetta vediamo Che arriva il microfono Cos'hai da fare Io niente Se hanno bisogno No perché qui c'è Il porto aperto Sia sabato che domenica Al Serraventi Bianconi Qui a Fondotoce Se devi cambiare Se devi cambiare Qualche infisso Finestra Sei comodo Esatto Oramai sei un cittadino Omenese doc Devi mettere su famiglia Devi comprare una casa Puoi venire qui Scegliere Puoi scegliere Con sconti particolari Per Masciadri Quindi sabato e domenica Facciamo così Se sei d'accordo Signor Angelo Chi ha guardato La puntata di Baschettando E viene qui Dicendo Ho visto la puntata Di Baschettando So che c'è Finestre aperte Magari Forte aperte Sì Era la battuta Forte aperte Ma finestra aperta Era la battuta Gli facciamo Uno sconticino Direi che La giudichiamo Fabio Come la vedi questa Mi sono preso Questa libertà Mi faccio portavoce Della richiesta Dopo vedrò Di farla provare Ok Guardiamo il futuro Stefano E lo guardiamo Con Burlini E con loro Sia Di Omenia Che di Domo Allora Sotto contratto C'è Stefano Masciadri Abbiamo detto Che l'avventura Di Di Lorenzo È ormai terminata Ci cercherà Un nuovo allenatore Il primo nome Che si è abbozzato È l'attuale tecnico Della San Giorgese Ho sentito Vox Populi Una candidatura Che potrebbe essere Interessante È un prospetto giovane Che ha lavorato bene Con i giovani Negli ultimi anni A San Giorgio Allora Stefano Masciadri Sotto contratto Stefano Masciadri Vuole rimanere Immagino no? Sì Senza dubbi Cioè Perché L'ho convinto Ho detto sì Cosa devo dire Certo Ecco A rigore di logica Sarebbe quarto anno Ti becchi una Una sfiga Possiamo dirlo Anche se non si dice In televisione Clamorosa Che è quella di fare il capitano Che non ha portato benissimo Negli ultimi anni Si vede che sarà L'anno buono Prima ha detto Burlini Io spero che Se Masciadri rimane Possa fare il capitano Perché Perché Alessandro Secondo te Può essere una scelta giusta? Perché credo Che abbia il carattere Giusto per farlo E magari La fascia Chiamiamola così Potrebbe aiutarla A tirare fuori Quelle due o tre paroline Che secondo me Dentro le tira Però rimangono dentro Se uscissero anche Potrebbe essere D'aiuto Detto che Stefano appunto Ha un contratto E se la società Lo ritirà opportuno Lui ha detto Che vuole rimanere Quindi si può ripartire Da Stefano Gli altri giocatori In odor di conferma Poi Diamo per scontate Tante cose Però rispetto al passato L'anno scorso C'erano dei dubbi Sulla prosecuzione Tieni tu il microfono L'attività invece Quest'anno Insomma la sponsorizzazione Delle Paffoni È confermata Come di tutti I main sponsor Quindi si può programmare Con una certa Serenità e tranquillità Io credo che Due giocatori Come Banti e Gurini Siano stati apprezzatissimi Dalla piazza di Omenia Per il loro modo Di comportarsi Fuori dentro dal campo E per loro La conferma Sia quasi automatica No Alessandro Dipendesse da te Facciamo così Non so che Dobbiamo chiedere La prima settimana prossima Però Diciamo che Sicuramente Banti e Gurini Sono due giocatori Che si sono fatti apprezzare Per il modo di stare in campo Di stare fuori E tutto Io ti ripeto Non è che voglio scaricare Però quest'anno La prima squadra L'ho seguita Quasi come un tifoso Nel senso che Vedevo Dieci minuti Di allenamento Al martedì Perché dopo c'era L'allenamento Dalla mia squadra De giovanili Se no Non avrei visto Neanche quelli Per cui Dirti i comportamenti All'interno Dello spogliatoio E varie cose Da gestire Che alla fine Forse contano Quasi più Del resto Non lo so Io diciamo Macciadri Murini E Banti Siamo a tre Ti posso dire Che è una persona Che secondo me Che da un certo punto Di vista terrei A me è piaciuto Tantissimo Shepard Come giocatore Come tutto Ecco Per l'altra parte Però ti dico Un'altra cosa Che Te la dico così A me piaceva L'idea di Gianpaolo Di trasformare Stefano in numero tre Se dovesse rimanere Profesionalità E poi anche Di un rendimento Davvero Eccellente Quindi Credo che Si avvicinerà a casa Per un pensierino Magari Io ho provato A convincerlo Anche a restare Come allenatore Visto che mi dava una mano Ho provato A usare anche quella Scusa lì Però obiettivamente La vedo Difficile Ok E poi bisogna vedere Se si dà un'altra chance A Bianchi E De Nicolao Che per motivi opposti Insomma Sono stati Decisioni Che lascio volentieri A Urlotto E al futuro allenatore Bruno e Fabio Adomo invece riparte Il primo nodo Da sciogliere Sarà quello dell'allenatore E poi Insomma Ci sono tanti giocatori Che sono tanti anni Che hanno vestito La maglia bianco blu Foti Petricca Ossolani Ormai acquisiti Ci sono dei giocatori Che ormai Sono un punto fermo Il mio augurio È quello appunto Di rivederli Ancora in bianco blu Per il momento È solo un augurio Nel senso Che come ti dicevo prima Abbiamo Le idee Di un futuro Ma non abbiamo ancora Le idee chiare Quindi è tutto È tutto Qualche cosa Che deve Nascere Deve Riconfigurarsi Sicuramente Qualche punto fermo L'avremo Naturalmente I giocatori domesi Quelli Sono fuori discussione Almeno lo spero Spero che loro vogliano Fermarsi a domo E appunto I vari Petricca Foti Sono Per noi Dei punti di riferimento Sono persone Che per la società Oltre a giocare Danno anche Oltre che a immagine Danno proprio Una sicurezza Sono persone Che partecipano Alla vita Della società Oltre che Semplicemente Giocare Semplici giocatori Certo Ho capito Quindi Questi sono i nostri Punti fermi Dopodiché Si deve anche Ricostruire una squadra Che abbia Qualche chance In più Venendo Dall'esperienza Della stagione passata Dove avevamo fatto Veramente Una stagione Fuori Dalle nostre Dai nostri Canoni Siamo arrivati a sfiorare La finale Per un nulla Ce la siamo lasciata Scappare Quest'anno Il confronto Era duro Da sostenere Fabio Ma su Domo Spenderei Due parole Così come Per la fulgora Ai livelli Che è arrivata A concretizzare E a Praticamente A meritarsi Stabilmente Anche su Domo Occorre fare Questo genere Di riflessione Perché Da anni Oramai Fa una squadra Partendo sempre Da salviamoci O facciamo per E raggiunge i playoff In un campionato Come quello della C1 Che a mio avviso Preoccupandomi Del giovanile È Dove possono Sfociare I giocatori Di talento Che può produrre Un settore giovanile Della nostra zona Scusami Ricordiamoci Biella per esempio Che ha lanciato Ha fatto benissimo Quest'anno Un paio di giocatori Che due o tre anni fa Giocavano in C1 Lombardi Che giocava a Brescia Biel ha fatto Lungo il suo percorso Una scelta Molto coraggiosa Che è quello di giocare Con l'Under 19 Un campionato A livello nazionale E balla tutti gli anni Tra la C1 e la C2 In C2 vince In C1 retrocede Ma come filosofia Ma come filosofia di gioco L'Under 19 Fa anche Quel doppio campionato Ed è A quel livello Biella può sostenerlo Noi possiamo fare Un po' la stessa cosa Con dei limiti Forse un pochettino Più evidenti Domo Dà quella possibilità Ai giocatori Interessanti Ma anche Che escono Dalla Paffoni Dopo un Under 19 Qualificante Di avere Una vetrina E una prospettiva In C1 Arona Ce la sta dando In C2 E l'augurio È che riesca A salvarsi Domani c'è Gara 2 Del primo turno Playout Contro il Vero Dopo che Arona Ha perso Di 11 Gara 1 Perché La prospettiva Di avere un posto Dove mandare i giocatori Che hanno un futuro Nel basket Deve poter Continuare ad esistere Poi non dimentichiamo Borgosiesia sta lottando Per andare in B2 Oleggio Che la nostra zona Ha già vinto Il campionato E sta salendo Insomma Secondo me Ci sono Le premesse Perché tutto il movimento Della nostra zona Possa crescere E dare delle prospettive Ai ragazzi Che tutti i giorni Siamo in palestra Ad allenare Bisogna fare in maniera Che trovi uno spazio Senza dover fare Migliaia di chilometri Siamo pronti a fare I seramenti Al palazzetto Dello Sport di Gravellona Sono già pronti Ce ne sono tanti Di finestre A chiudere In quel palazzetto Però sarebbe Un bel match Perché sai Mi hai dato l'assist Per il proposito Di movimento Insomma Quello sarebbe La carenza degli impianti È fisiologica Non esiste Adesso si sta parlando Anche di completare Una palestra Che è quella del liceo Che speriamo Possa almeno Contenere delle partite Liceo di Omenia Mi riferisco Il dubbio è Che si faccia Un'altra palestra Troppo piccola Per poter essere Emologata E questa sarebbe Veramente Un'altra occasione Sprecata Per poter fare Qualcosa di buono Poi chiudiamo Il rapporto Con Arona Andrà avanti Stiamo parlando Cerchendo di Continuare E di Ampliare Ancora di più La collaborazione Con loro Sicuramente Ha dato Secondo me Ottimi Ottimi risultati Abbiamo avuto Purtroppo Alla fine Un solo ragazzo Di Verbania Che ha finito La stagione Ad Arona Per problemi scolastici E chiaramente Fare Verbania Arona 3-4 volte A settimana Un impegno Due di Arona Che sono venuti A Omenia Ha finito la stagione Adesso stiamo Lavorando Per ampliare Questa collaborazione Per l'anno prossimo Perfetto Io ringrazio Stefano Masciadari Papabile Nuovo capitano Della Paffoni Ciao Stefano Buonasera a tutti Mi raccomando La fascia portala bene Eventualmente E ringrazio anche Andrea Saccaggi Insomma Anche per lui Sembra arrivata A parola fine All'avventura Di 4 anni e mezzo A Omenia Grazie Alessandro Burlini Grazie Ciao Buonasera a tutti Grazie Fabio Marzolati Che ci ha ospitato Qui ai Serramenti Bianconi Grazie Fabio Grazie Buonasera E grazie a Bruno Maria Grazie a te Di avermi invitato Un'altra volta Non aspettare Un altro anno Prima di invitarmi Di nuovo Assolutamente no E rinnovo L'appuntamento Per sabato e domenica Con il Porto Aperte Qui a Gravellona Dove Masciade Verrà a scegliere I suoi Finestre I suoi infissi Ci vediamo Martedì prossimo Con Baschettando Saremo Se non vado errato Sì Non vado errato Alla MRG